Ok, ciao ragazzi, ciao Moscarelli Group, e vi volevamo presentare il nostro nuovo membro dell'EB di P.P. Filet! E P.P. Filet che ci manda! Eccolo! Già con la penna, dov'è? Dove è la matita che sta? Guarda, già anche la matita per scrivere... Già con il finale! Guarda, guarda che bello! Guarda lui! Che ha spillo? No, si chiama... Si chiama libro masco! No, piccolino! Ovviamente lo porteremo al prossimo congresso, quindi confiliamone la vostra accoglienza super... Tipo, Denisa devi fargli un po' di training e crede tanto bravo! Ma non pagalo! Denisa lui è per te, ah, mi raccomando! Guarda lui! Trappamelo bene! Final chat la prossima settimana! Purtroppo è una Skype, lo devo andare a scaricare! Ora ripetiamo la paglietta Final Nerd e gliela compri Denisa! Andrea è in l'opera! Guarda lui! Ciao! Un maschetto! Qua femmine non l'abbiamo! Cioè, forse è l'unica King, forse! Forse! Hai buttato! Zoccolato! Mi chiodo! Vedi che era ripreso, eh! Guarda lui la cosa che ripresa lui!